Fino ad oggi nessuno è mai riuscito ad avere una curva di coppia eccezionale come questo motore. Quando parlando con Fabio Buzzi gli promisi di creare un motore per il suo record, l'idea fu subito ma dove mettiamo la squadra per lavorare a questo motore e la scelta è stata difficile perché scegliere una sola location fra le tante che FPTA per i suoi centri di testing e di sviluppo non era facile e così abbiamo deciso di utilizzare il meglio di quello che poteva offrire. Arbon perché sicuramente è il nostro centro di innovazione dove sono nate tante nostre innovazioni da un punto di vista tecnologico ma è anche il centro dove noi prepariamo i motori per il racing e quindi non poteva non esserci il DNA di Arbon nel nuovo motore. Ma allo stesso tempo Torino con più di 100 banchi prova non poteva non essere il posto ideale per testare il motore che era atteso ad una prova così importante. E infine dove produrlo? Nel nostro atelier milanese a Pregnana dove nascono tutti i nostri propulsori marini. Ci abbiamo lavorato sopra con l'aiuto di Arbon, Arbon è il centro di ricerche di FPT, è in Svizzera, sono di una bravura, di una meticolosità eccezionale e insieme abbiamo messo a punto, credo che sia il miglior motore del mondo. I numeri lo hanno dimostrato. Lavorare a stretto contatto con l'ingegner Buzzi è difficilissimo da raccontare, quindi immaginatevi a viverlo. È una persona geniale, è una persona che insegna anche senza voler insegnare. Lavorare a Pregnana con l'ingegner Buzzi è una persona che conoscevamo a Pregnana con altri bambini. Lavorare a Pregnana con l'ingegner Buzzi è una persona che conoscevamo a Pregnana con altri bambini. Lavorare a Pregnana con l'ingegner Buzzi è una persona che conoscevamo a Pregnana con l'ingegner Buzzi è una persona che conoscevamo a Pregnana con l'ingegner Buzzi è un'attività di lavoro. lavorare e lavorare insieme, è un risultato molto buon. È un'esperienza che porta a un impatto di tutto rispetto. Per sicuramente durante il progetto avevamo alcuni risultati e risultati, ma come sono un uomo molto positivo, mi ricordo sempre le parti negativi, solo pensavo sui positivi. Come potete vedere durante il record, è stato un momento molto emozionale. La soddisfazione della nostra collaborazione, ovviamente, era il record. E' bello, è bello. È bello, stare a l'interno, guardare in quanto riguarda. E' chiaro, c'è stato un po' di tensione in quel momento, quindi, magari, in questo momento, qualcosa che non c'è nulla. Noi avevamo problemi con questo, l'enginio era perfetto. Un po' di tensione in quel momento, però, c'è stato un po' di tensione in quel momento, Grazie a tutti.